Prima o poi, io mi presento davanti a tutti. Gandolfi, che succede? Perché ti sei fermato? Ero un cantante. Un cantante lirico. Eri o sei fallito? Ti ho detto di non bere. Con Verdi non si scherza, ragazzo. Carlo! Carlo! E la morte ti ha parlato? Sì, ma non lo dica così, come se la cosa non fosse possibile. Dovrai cantare per me, dovrai smettere di bere e dovrai interpretare il Macbeth. Altrimenti sei morto. Sei in ritardo e sei anche ubriaco. Se continui così il teatro non te la dà un'altra possibilità. Quando bevo, io divento Ulisse che distrugge Troia. Divento Alessandro, Winston Churchill, Sean Connery. E faccio quel cazzo che voglio! Assassino! Tanta! Assassino! Carlo, con chi parlo? Ma è vero che devi fare il Macbeth? Ma tu ti rendi conto che la morte mi ha detto che devo cantare il Macbeth? E che se non lo faccio, pum, sparisco. Io faccio parte della vostra vita. Sono l'ultimo atto. Per questo? Mi odiato. Ma con chi parli? Cosa vuoi da me? 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 Cosa vuoi da me?